Musica Abbiamo pensato di presentare un tacos questa sera che lega anche poi le nostre dolomiti siccome abbiamo inserito anche delle erbe selvatiche lo presenteremo con un petto d'anatra leggermente fumicato di un piccolo contadino di noi in valle che alleva queste anatre a stato brado e della maionese all'ortica che lega di nuovo i nostri boschi e i nostri territori Musica Musica